...alla scivolata dall'altra parte. Questo è il presidente della Puglia Emiliano. Andiamo a casa della sorella di Antonio Capriati, che era il boss di quel quartiere, e io gli andai a dire che questo ingegnere, assessore mio, deve lavorare perché qui c'è il pericolo che i bambini possano essere investiti dalle macchine. Te lo affido. Allora, questa è una frase perlomeno infelice, o no? Non ne vorrei parlare, guardi, per carità di patria. È una frase che non andava detta, sia che corrisponda alla realtà di una città difficile, perché io, tra l'altro, ho avuto modo di conoscere che cosa era la situazione di Bari Vecchia, come si chiama, completamente preda della mafia, dove era pericoloso mettere piede, dove c'erano le sparatorie tra gruppi, con i bambini che sentivano fischiare le pallottole come nel Far West. Sia che sia vera, sia che non sia vera, come dice De Caro, perché corrisponde a un falso ricordo. È una frase che il presidente Emiliano francamente non doveva dire. Sono avvilito. Ecco un altro motivo di avvilimento. Ecco, lei dice un altro motivo, perché in fondo si potrebbe... Grazie.